Buongiorno ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, come va? Male, da un punto di vista calcistico sicuramente oggi non è una delle giornate migliori, mi sembra di essere in un continuo temporale rispetto alla scorsa stagione, dopo una pausa siamo ancora messi così. Quindi voglio fare questo video perché ieri poi non ho parlato delle dichiarazioni di Allegri durante le interviste su Dasona ad esempio dopo partita, però bisogna che ci si soffermi un attimo su queste dichiarazioni perché secondo me sono irrispettose nei confronti del calcio, nei confronti dei tifosi e nei confronti in generale di tutti gli appassionati di calcio. Allora iniziamo con il fatto che secondo lui la questione positiva è che in due giornate non abbiamo subito gol, sì va bene però, magra consolazione, mi sembra un messaggio da un punto di vista comunicativo completamente sbagliato e mi sembra anche il messaggio rappresentativo della sua interpretazione del calcio. Però vabbè, la cosa che mi ha più infastidito è stata, sono due, la prima quando mi sembra, non ricordo chi, gli ha fatto una domanda sui moduli 4-4-2, 4-3-3 e lui ha sbottato dicendo che il calcio è una cosa semplice, basta passare la palla che ha la maglia uguale come la tua. Ma va bene il calcio sarà anche una cosa semplice ma non semplicistica, non puoi trasformare qualche cosa che è semplice magari in ridicolo perché tu lo stai ridicolizzando, stai ridicolizzando i tuoi interlocutori, stai ridicolizzando chi ti ascolta e ridicolizzi anche i tifosi della Juve. Perché non può essere così semplicistico un approfondimento che invece richiederebbe un tuo contributo per farci capire per quale motivo ci sono delle difficoltà tattiche di un certo tipo. Invece così è un voler svincolare, sviare le domande scomode perché non vuoi entrare nel merito. Non voglio dire che tu non vuoi entrare nel medico, tu Max Allegri perché non hai le competenze per farlo, perché mi sembrerebbe assurdo una persona con la sua carriera, non è possibile che non abbia competenze tattiche. Però presunzione allora, presunzione, quando invece gente che paga gli abbonamenti per vedere la propria squadra del cuore merita che il tuo allenatore dia delle spiegazioni visto che non le può dare direttamente a te per il tramite dei giornalisti che finalmente ogni tanto anche ad Allegri fanno qualche considerazione scomoda. E quindi questa è una cosa che mi ha molto infastidito, mi ha molto infastidito perché non si fa così, non è un modo professionale di affrontare queste situazioni. Non voglio fare il populista dicendo che prende 7-8 milioni di euro, non lo so, a stagione, quindi lui deve stare lì e deve rispondere senza i nervosi, no, senza i nervosi, ma senza ridicolizzare così l'interlocutore e la discussione. Però non è una questione di soldi, è proprio una questione di rispetto della professionalità di un allenatore di una delle squadre più famose del mondo. L'altra cosa che a mio parere è completamente stonata e anche qui legata ad un attaccarsi a piccoli episodi che secondo me non hanno nulla a che vedere con l'approfondimento tattico che invece andrebbe fatto, ovvero il fatto che lui non parla tanto di numeri, non gli piace parlare di numeri perché alla fine le cose che contano sono ad esempio il non colpire la palla di testa mentre si va all'indietro, dice lui. Questa cosa l'avrebbe fatta Miretti e quindi non va bene quando poi c'è stata l'occasione di Quagliarella, cioè praticamente tra tutti è andato a toccare Miretti che è l'unico che si è salvato, l'unico che ha dato un input in più, anzi ci aggiungo anche Rovella ma ha giocato 6-7 minuti e anche Perin che ha fatto la sua buona partita, ovviamente Perin impara, ma da un punto di vista di provare a fare qualcosa a livello di costruzione Miretti è stato l'unico e tu vai a parlarmi di Miretti che avrebbe fatto questo errore di colpire la palla di testa mentre corre all'indietro lo ha fatto anche Ken e lo ha sottolineato Allegri, ma è questo il problema? Cioè in tutto lo schifo della partita di ieri sera il problema è che ci sono dei giocatori che hanno colpito la palla di testa andando all'indietro Cioè per me è una realtà parallela quella che vive Allegri oppure non gli va di parlare e cerca di buttare la palla in tribuna tutte le volte facendo finta, non facendo finta, cambiando discorso e non entrando nel merito perché se tu ritieni che questi siano i principali problemi mi viene da pensare che tu fai delle valutazioni solo ed esclusivamente legate a dei singoli episodi perché la tua concezione di calcio prevede che nell'ambito di una partita tu debba aspettare solo ed esclusivamente i singoli episodi che sono quelli poi che cambiano l'andamento di una gara Allora, sgombriamo subito il campo, certamente gli episodi cambiano l'andamento di una gara ma cercare solo di gestire o di essere bravo ad affrontare i singoli episodi tralasciando tutto il resto ancora una volta secondo me è molto significativo dell'idea tattica che ha Allegri cioè per capirci, mi fa pensare che l'atteggiamento attendista, la difesa molto bassa, l'aspettare gli altri che si sfoghino si è legato ad una sua valutazione che è la seguente tanto prima o poi capita l'episodio che se lo sfruttiamo facciamo gol e dopo la partita la indirizziamo come vogliamo ad esempio se avesse fatto gol quadrado quindi c'è stato un episodio che poteva svoltare un altro episodio è stato alla fine con Kostic che poteva vincere la partita però vi sembra una valutazione completa e intelligente quella di aspettare solo l'episodio cioè l'episodio lo devi andare a costruire con un approccio tattico di un certo tipo che ti porti ad avere tanti episodi, non aspettare lì perché questo aspettare lì lo faceva anche nei famosi 9-8-5 scudetti consecutivi insomma quelli che ha vinto ma c'era anche una differenza, c'erano dei giocatori in campo di tutt'altro livello ai quali potevi dirgli ragazzi andate in campo e fate voi che avevano la capacità di farlo cioè tu adesso non puoi fare una roba del genere a parte che anche allora questo modo ti ha fatto vincere gli scudetti ma ad esempio in Champions non ha pagato perché un modo di affrontare le partite così prevede che tutte le volte ci siano i tuoi giocatori più rappresentativi e più forti in serata e a quel punto lì possono svoltarti la partita ma se non sono in serata rischi di non costruire, di non fare nulla oppure di aspettare appunto l'episodio che sicuramente con dei giocatori di qualità è più probabile che avvenga quindi ancora una volta siamo sempre lì siamo sempre lì da un punto di vista tattico non ci sono dei passi in avanti e probabilmente ci sono dei passi indietro da un punto di vista comunicativo e da un punto di vista della presunzione ripeto Allegri non può fare così deve portare rispetto per il calcio per i tifosi che pagano e per i tifosi che amano il calcio e la Juve grazie per il supporto ricordatevi iscrivetevi al canale selezionate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che faccio un nuovo video e mettete un bel like e commentate soprattutto perché è tramite i commenti che mi arrivano gli spunti e mi permettono di fare dei ragionamenti ciao e forza Juve